Il 21 settembre è il primo big match contro il Milan, si parte, mettetevi comodi, inizia adesso All Star Indonesia, Juventus, calcio d'angolo. Pogbon in marcatura, palla in aria piccola girata e il vantaggio, gol di Lopicic, il Montenegrino porta in vantaggio le All Star dell'Indonesia. Prima il tiro di Maitimo, prima ancora la chiusura di Licksteiner che qui perde l'avversario, perde il duello fisico con Lopicic. Lepone questa volta può solamente guardare, 1-0 per l'All Stars. Tre minuti ma il ritmo è buono, soprattutto la squadra indonesiana ha voglia di fare, Jovinko in aria, va giù, contatto, calcio di rigore, follo di Lobo, 1-2 rapido, Jorente Jovinko. Sarrava mette in diretta il calcio di rigore, lo colpisce Lobo a Jovinko che protegge la posizione. Versi l'Asa, il barfazio del portiere indonesiano. Pirlo, perfetto, spiazza Melga, pareggio della Juventus con Andrea Pirlo su calcio di rigore, 1-1. Sceglie l'angolo alla destra di Megapirlo, non sbaglia. E parte il coro, Juve, Juve. Pogba, corre Marchese, l'ha visto Pogba, palla per lui, leggermente lunga. Poi Giorente, dopo il rimpallo, la Juve passa in vantaggio, al sedicesimo con Fernando Giorente. Escrutta l'errore di Fulki Flea. E puniveria, abbattuto Meiga. Tra le gambe, il portiere indonesiano. Abbiamo visto tante volte la Juventus segnare così di inizio ad Asamoah. Giovinco. Licksteiner, inserimento, in mezzo Giorente, 3-1. Licksteiner, Fernando Giorente. Sono due, un attaccante di Pamplona. Gol facile. Il ritardo Riccardo, il ritardo, poi anche la coppia centrale. Bella palla di Giovinco. Poi l'altruismo di Licksteiner. Paccosano ha fermato, voleva il 1-2 con Giorente. Pirlo. Pogba. Controllo in aria. Vediamo cosa inventa. Doppio passo Pogba. Poi con la suola per Licksteiner. Sul secondo palo, Giorente! Tre volte. Fernando Giorente. Ancora un assist di Licksteiner. Ora si diverte. Coprono benissimo gli spazi. Non riescono a fermarlo fisicamente, Giorente. Che ha spostato Fulchifli. Se andata così il 4-1. Giorente, Marchisio, stoppa a seguire, che diventa dribbling. Marchisio cambia direzione. Torna di nuovo sul pallone, con la punta. Per Giorente ne salta uno. Poi facile per Giovinco. 5-1. Segna Sebastian Giovinco. Questa volta Giorente serve l'assist. Non rimbalzava bene, comunque ha trovato la coordinazione. Vediamo. Presa male. Non rimbalza benissimo inizialmente. Poi, meglio. Non colpisce bene con l'interno Giovinco. Ma comunque, la mette all'angolo. Tevez. A destra Pereira. Arriva anche Pepe. La prende Pepe. Dall'altra parte è Comanna. Pepe fino in fondo. Vuole Comanna. 6-1 per la Juventus. Segna Kingsley. Comanna. Buonucci. Tellini. Cambio gioco lo fa bene. Sempre per Pepe. C'è anche Vitale in mezzo. Pepe. Punta l'avversario. Doppio passo. Pepe. Palo. E poi Tevez. 7-1. E te la firma. Anche Lapash. Buon impatto sulla partita di Pepe. Fondreira. Pedinato agli infortuni. Doppio passo. Palo. E Tevez. Per il 7-1. Tevez. Taglia Pepe. Gran palla di Tevez. Pepe in aria. Pepe con il pallonetto. Torna a segnare. Simone Pepe. Ben tornato. 8-1 per la Juventus. Separato facile Amirudin. Per toreare la Juventus. Per att sonra. Per duebreaker. Per. Per dueithmetic. Grazie a tutti